Finalmente dopo mesi di precipitazione assente è tornata la pioggia nella pianura vicentina, la neve in montagna, dal massiccio del Grappa all'altopiano dei Sette Comuni, dal Tretto le prealpi della Valle dell'Astigo, piccole Dolomiti. Come mostra il video inviatoci da Davide De Canello, nevica copiosamente a passo Campogrosso, altezza rifugio balasso, 10 centimetri di neve caduti alle 10 di martedì mattina. La perturbazione purtroppo andrà ad esaurirsi già mercoledì, iniziate nella nottata le precipitazioni che proseguiranno fino al pomeriggio di martedì con nevicate diffuse anche 15-30 centimetri sulle zone montane con quota neve in rialzo sulle zone prealpine fino ai 700 mille metri, a tratti localmente più basso in alcuni fondovalle più chiusi con possibili accumuli di alcuni centimetri. Grazie per la visione!